scrofa domani ti farò veder una cosa ti porto in un posto molto bello macello tranquilla vedrai solamente una scintilla ti sveglierai quando ti si accoppa che sei coppa che fame se ti guardo penso subito al salame se invece guardo la tua codariccia salsiccia fa gola pensare che fra un po' sarai bracciola finirai sulle uova molto in fretta pancetta quanto ci piace a noi buona e rotondetta peppa quanto ci piace a noi buona e rotondetta peppa gente di peppa non si butta via niente sai quante cose con le si possono fare vado a elencare bistecca ciccioli capocollo costoletta spalla lombo e stavo per scordare il guanciale copro asciutto zampone cotechino e faccio un rutto per chi non vuole usare la forchetta forchetta bambino c'è mamma papà picca il fratellino con la tenera e simpatica famiglia riempi la griglia riempi la griglia quanto ci piace a noi buona e rotondetta peppa grazie 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 grazie